Workshop e dibattiti per stimolare le generazioni future a rilanciare lo stile della dieta mediterranea attraverso un laboratorio permanente. Questo l'obiettivo di Dieta Mediterranea 4.0, evento che si terrà dall'11 al 13 ottobre a Pollica. Nel corso della tre giorni anche tanta musica con Fabrizio Bosso, Marcello Colasurdo, icona della musica popolare, Marco Messina e Sascha Ricci dei 99 posse ed il Sound Selector Gamino.